Santa Maria di Sala si prepara ad accogliere la fiera più attesa dell'anno dedicata alla sposa. La manifestazione che si terrà il 26 e il 27 ottobre prossimi, quest'anno giunge alla sesta edizione e cambia immagine e nome. Mi sposo in Villa 2013 si terrà nella splendida cornice di Villa Farsetti. Per attrarre visitatori conta non soltanto sulla sfilata di abiti da sposa, seguitissima, ma anche su fuochi d'artificio, molti spazi per il gioco e il trucco dei bimbi, momenti dedicati agli appassionati di moto e soprattutto tanta moda, quella che sa produrre una classe di artigiani da tempo sul mercato. Noi in queste due giornate vorremmo dare ampio spazio a tutti quelli che hanno come obiettivo di sposarsi l'anno prossimo, ma non troverete solamente espositori che hanno a che fare solo con il matrimonio, troverete anche tutte le altre categorie che, fatalità, siamo in un momento abbastanza particolare a livello economico, vorremmo dare spazio a tutti, però un augurio ai futuri sposi lo vogliamo fare. L'iniziativa gode del sostegno del Comune di Santa Maria di Sala, che da tempo promuove l'attività delle imprese locali, che hanno dato vita ad un distretto più grande di quello insediato a Porto Marghera. Vi invitiamo tutti a partecipare per un weekend di divertimento per tutti.